Dopo il successo riscosso ad agosto, con il primo appuntamento di quest'anno presso il Teatro delle Fonti di Fiuggi, è stata la volta di Alate nella Cattedrale San Paolo, dove oltre a quella indiscussa del maestro Maglio Polletta, si è potuto apprezzare l'esibizione del giovanissimo solista Francesco Polletta, già vincitore di concorsi nazionali e internazionali, non che l'infautista di numerose orchestre italiane, come la Santa Cecilia e quella giovanile del Teatro dell'Opera di Roma. Claudio Tofani ci ha preparato alcuni brani del concerto di Civita. Eccolo qua il filmato, mandiamolo su. Eccolo qua il filmato, mandiamolo su. Eccolo qua il filmato, mandiamolo su. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti